Nel 2018 la Toscana ha superato la soglia del 95% di copertura per le vaccinazioni pediatriche stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo ha detto l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, presentando in regione il nuovo calendario vaccinale. La vaccinazione esavalente nel 2018 ha raggiunto il 96,8% di copertura a 24 mesi di vita, oltre l'1% in più sul 2017. Ancora più marcato l'aumento di copertura per morbillo, parotite e rosolia. La possibilità di riuscire a fare le vaccinazioni direttamente dal pediatra di base è stato un vantaggio non banale. Una pediatria impegnata nella sua totalità a favore delle vaccinazioni e quindi che ci ha dato una grande mano e anche insieme naturalmente alla medicina generale e quindi un ringraziamento particolare. Tra i dati negativi il calo dei vaccinati a 24 mesi contro il meningococco C, passati dal 92,7% del 2017 al 91,09% del 2018. Anche per questo la regione ha confermato fino al 30 giugno la campagna vaccinale straordinaria contro la meningite C. Risultati positivi invece si sono avuti nelle vaccinazioni per meningococco B, varicelle e pneumococco. Quest'anno è stato un forte impegno da parte dei pediatri perché è stato il primo anno effettivo di messa al regime del nostro accordo regionale che unico in tutta Italia vede impegnati i pediatri di famiglia nell'esecuzione diretta delle vaccinazioni e questo ci ha impegnato tantissimo ma soprattutto ci ha impegnato anche nel recupero di quell'ineale di impianti perché con la nuova anagrafe regionale poi c'erano stati dei problemi e quindi alcuni bambini risultavano non vaccinati ma in realtà erano vaccinati negli ultimi mesi, l'impegno su questo è stato abbastanza forte. Tra le novità del calendario vaccinale illustrate, l'integrazione delle disposizioni introdotte dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, le misure aggiornate per le vaccinazioni delle donne in gravidanza e l'offerta gratuita della vaccinazione a 25 anni per il papilloma virus. Grazie.